Allora, la grande Roma di Bianchi e Ciarrapico ha compiuto in Coppa un'impresa mai riuscita a una squadra italiana, quella di espugnare il campo di Mosca. Il gol della splendida vittoria è stato realizzato da Ruggero Rizzitelli, dopo un lungo, inafferrabile guizzo. L'Oscar di calciomania, quindi, tocca stavolta, proprio al cannoniere giallorosso, che vediamo scatenato in azione, un campione definitivamente esploso e ora pronto a stupire anche in nazionale. Allora, a te e alla Roma, grande Rizzitelli, l'Oscar di calciomania!